Dal 5 al 22 maggio a Teramo andrà in scena il Maggio Fest, una raffinata rassegna di cinema, libri e teatro che si rinnova sempre con grande successo da 28 anni. L'edizione 2019 renderà omaggio al cinema erotico italiano del 1969 e avrà come ospiti d'onore Michele Placido, ma anche le attrici Grazia Scucci Marra e Chiara Martigiani, direttore artistico della rassegna culturale e il regista teramano Silvio Araclio. Il nostro ospite per Maggio Cinema, i maestri, è Michele Placido che sarà il 12 maggio, quest'anno in pomeridiana, quindi ci saranno due film di Placido, uno alle 16, la scelta, e l'altro alle 18, in 7 minuti, con Placido in scena, per così dire, con noi e con il critico Persia che ha curato un po' la rassegna cinematografica, tutta quanta, la sezione cinematografica. E poi avremo il 10, I ride, di Valerio Mastandrea e Sua Saint-Neuf a Né Rautique, questa stagione straordinaria in cui dirompe dopo il 68 un certo cinema di erotismo soft italiano e anche straniero, con grandi versioni da parte della censura, presenteremo il Satiricon, anche il Satiricon è stato avversato dalla censura, più altri film a Spazio 3, Satiricon invece sul grande schermo al Cinema Smeraldo, dove si svolge gran parte della sezione cinema. E poi per il teatro Maria Inversi a Spazio 3, il 5, che apre proprio la sezione, con uno spettacolo nel nome della Rosa e Pasolini, voce, video, immagini, molto sperimentale, molto interessante. E poi c'è Grazia Scucci Marra, con il suo ultimo spettacolo, al Comunale, così in pari. Non finisce qui perché abbiamo la presentazione dell'ultimo volume di D'Amigale, che ha avuto molto successo in Italia, ed è un libro proprio Incontri all'angolo del mattino, è un libro sul 69-70, sugli incontri che lei ha avuto nella sua lunga carriera di scrittrice, ma soprattutto di politica. Sarà presentata da Filippo Laporta nella biblioteca provinciale e, aspettando il premio Teramo, in collaborazione con il premio Teramo, Gian Mario Sgattone, il premio Teramo, questa figura straordinaria, intellettuale, poeta, scrittore, fondatore del premio Teramo, segretario del premio Teramo e soprattutto un grande motore della cultura, non solo cittadina, ma regionale. I luoghi dove si svolgeranno i nove incontri del Maggio Fest spaziano dal Cinema Smeraldo, alla Biblioteca Delfico, dalla Sala Ipogea al Teatro Comunale e a Spazio 3.